Riley? Maya? Abbiamo pensato alle tappe della nostra vita. Non abbiamo controllo sul momento della nascita. Sappiamo che siamo fortunate ad esserci. E più fortunate se ci arrampichiamo per la finestra giusta. Sì! Abbiamo esaminato le tappe della nostra vita, dall'inizio fino al momento in cui volevo una festa per i 16 anni. E abbiamo scoperto che hanno una cosa in comune. Ci mettono in un mondo di persone, e quello che controlliamo sono le persone che vogliamo avere accanto. E una festa a qualsiasi età è solo un'occasione per stare insieme. Quindi non sei ancora pronta per i tuoi 16 anni? No! Forse non lo sarò mai. Non volevo che ci allontanassimo. Volevo che restassimo immobili. Ma la vita non funziona così. Siamo agli inizi. Esattamente dove dobbiamo essere. Dovremmo goderci il momento. È questa la vita. I dolci 16 anni saranno più dolci quando avremo 16 anni. Ma per il momento siamo al sicuro. Sappiamo dove saremo per i prossimi tre anni. Quindi nessuna festa? No, certo che sì. Le nostre tappe ci hanno dimostrato che abbiamo gli amici giusti e che staremo sempre insieme. La vita ci ama. La speranza non è solo per i perdenti. Ed è la cosa migliore da festeggiare. Facciamo festa! Dobbiamo farla proprio a casa nostra. La vita ama la nostra casa. Che è successo? Possiamo anche non farla a casa nostra. Dile di no, papà! È appena successo. È successo proprio di fronte a Ogi. Ha sentito tutto. Mamma, sapete? Ero una brava studentessa. Ho ottenuto un lavoro in un prestigioso studio legale. Ho fatto carriera in fretta. Mi hanno promossa. Desideravo diventare socia. E sono appena... diventata socia! Doppia festa! Sono così fiero di te, Topanga. Dille di no, papà! Perché dovrei dirle di no? Mi hanno appena messa a capo della loro filiale di Londra. Chiedile come farà a gestirla da qui. Chiediglielo! Perché lei non vuole rispondermi. Sono così fiero di te, Topanga. Oh, sì. Anch'io sono fiera di te, mamma. Congratulazioni. Pensavo che la vita ci amasse. Sorpresa! Che cosa hai deciso, mamma? Riley... Aspetta! Bene. Ho detto loro che avevo bisogno di tempo per rifletterci. E ho detto loro che dovevo parlarne con la mia famiglia. Che cosa c'è da parlare? Io non ci vengo a Londra. Non parlo neanche la loro lingua. Ti hanno almeno offerto un aumento? Lunga vita alla regina! E peep! Urrà! Elton John! Spazza camini! Torte al burro! Ragazze, questa decisione non ha a che fare con i soldi. No, assolutamente no. Ascoltate, so che è difficile per voi. Non preoccupatevi. Prenderemo la decisione giusta. Girl Meets World Su Disney Channel chi è З removedcommerce suไ team sul reso. E così guest con il Food Network Per kenali la canale del mondo.